liberi.tv riccardo cristiano ci troviamo a fuscaldo all'auditorio minoretano per la presentazione del libro la conchiglia d'argento di gianni de seta un libro veramente molto interessante in quanto è avvincente ci sono dei drammi ci sono dei personaggi storici come ad esempio masaniello e io adesso voglio lasciare la parola a lui all'autore ci racconterà come è nata insomma quest'idea e soprattutto del libro perché è quello che ci interessa io ho scelto tre pagine di storia scaldese collegate ad episodi di carattere nazionale quindi il primo volume riguarda l'ecidio dei valdesi nel 1561 questo la partecipazione dei foscaldesi dalla repubblica parte europea dopo ma saniello del terzo del episodio legato dal risorgimento nazionale per ricavare le ragioni attraverso la storia della nostra fierezza cittadina per raccontarle di maniera sobria e diciamo semplice perfetto a questo punto noi vi invitiamo ad acquistare il libro sul sito dell'officina editoriale da cleto e vi invitiamo ovviamente a visionare la presentazione che troverete sempre sul sito di liberi.tv Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!